I manette sono finiti, un infermiere ed un'impiegata, a loro poi si aggiungono altre 11 persone denunciate per tutti l'accusa e quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Così si è conclusa l'operazione dei carabinieri partita nel dicembre 2019 e che a maggio aveva portato all'arresto di un uomo trovato in possesso di 50.000 euro e 200 grammi di droga. Questa mattina alle prime luci dell'alba è infatti scattato un maxi blitz in Valdichiana, impegnati i militari della compagnia di Cortona, coadiuvati dai colleghi del nucleo Cinofili Firenze e Pisa San Rossore, dai carabinieri di Monte San Savino e dal personale della compagnia di Bibiena, Arezzo e San Giovanni Valdarno. Sono state così eseguite 13 perquisizioni domiciliari disposte dall'autorità giudiziaria Aretina. Al termine dell'operazione sono stati e arrestati un'infermiere di 46 anni ed un'impiegata di 52, altre 11 persone, tutte residenti tra Civitella e Monte San Savino, sono state invece denunciate in stato di libertà. All'interno della casa dell'infermiere i carabinieri hanno trovato circa 60 grammi di marijuana, oltre ad un vero e proprio registro, con appuntati nomi ed importi delle cessioni effettuate o delle persone che dovevano saldare qualche debito di spaccio. Nell'abitazione della donna invece è stata trovata una busta trasparente con circa 70 grammi di marijuana. Inoltre il cane antidroga ha fiutato in macchina altri 10 grammi della stessa sostanza ed un grinder. A casa degli altri denunciati sono stati infine recuperati pochi grammi di hashish, in alcuni casi nascosti dentro delle scarpe, in altri invece pronti all'uso sul comodino della camera da letto o vicino alla tazza di caffè per la colazione. Adesso tutti attenderanno le decisioni della Procura della Repubblica di Arezzo sulle loro diverse condotte.